Benvenuti a tutti, continua il nostro percorso di riflessione dedicato al tempo dell'Avvento con Monsignor Francesco Cavina, Vescovo di Carpi. Questa è la seconda domenica d'Avvento, alle nostre spalle si è accesa la seconda candela. Qual è la riflessione dedicata a questo momento? Oggi, in questa domenica, vorrei proporre brevemente la struttura del tempo liturgico dell'Avvento. È una struttura, come accennavo già domenica scorsa, che è divisa, che è fatta di quattro settimane. E in queste quattro settimane si trovano sviluppati temi particolari che ci devono aiutare appunto a giungere, a vivere santamente il Natale. E allora la prima domenica del tempo di Avvento ci orienta alla parusia finale, cioè ci proietta al ritorno glorioso di Cristo. Cristo ritornerà alla fine dei tempi, non sappiamo quando questo accadrà, ma tornerà per giudicare i vivi e morti e il Signore diventerà il giudice dell'universo, colui che ritorna a riportare la creazione e quindi anche l'umanità nelle mani del Padre. La seconda e la terza domenica di Quaresima, quindi quella di oggi e quella di domenica prossima, ci ricordano quali sono le disposizioni spirituali per accogliere nella nostra vita la presenza consolante di Cristo. La quarta domenica di Avvento invece ci prepara a meditare e a riflettere sul fatto storico dell'incarnazione. A queste domeniche naturalmente corrisponde una virtù, diciamo così, che noi siamo chiamati a vivere. All'attesa del ritorno glorioso di Cristo corrisponde la virtù cristiana della vigilanza. Dobbiamo essere preparati, dobbiamo essere sempre pronti perché il Signore verrà e noi non sappiamo quando. Alla domenica invece che ci invitano ad accogliere il Signore, ad essere disponibili, ad accogliere il Signore nella nostra vita, corrispondono le virtù dell'umiltà, la virtù della pazienza, la virtù della misericordia. In sostanza ci invitano queste domeniche alla conversione del cuore. Il Signore viene, se il Signore viene va accolto con uno spirito rinnovato, con un cuore nuovo. E questo cuore nuovo nasce appunto da un atteggiamento di conversione. La conversione è proprio il prendere coscienza che la nostra vita ha bisogno di essere cambiata. E questo è il discorso più difficile da un punto di vista non solo umano ma anche cristiano, perché noi facciamo fatica ad accettare che nella nostra vita debba avvenire un cambiamento, perché tante volte il cambiamento ci spaventa, la novità ci fa paura, e l'uscire da noi stessi o dalle nostre idee, dalle nostre sicurezze, e naturalmente questo crea sempre un senso di profondo disagio. Quindi la conversione è l'uscire da noi stessi per affidarci e metterci nelle mani del Signore che ci porta verso traguardi per noi sconosciuti, ma che sono traguardi proprio per il bene della nostra vita. E la quarta domenica, dicevo che è la domenica che ci prepara a contemplare, a riflettere sul fatto storico dell'incarnazione di Cristo, e questo è animata dal sentimento della gioia. Il figlio di Dio, dicevo, duemila anni fa si è fatto uomo per la nostra salvezza e questo non può che suscitare una gioia profonda. Quando poi arriveremo alle giorni che vanno dal 17 al 24 di dicembre, noi veniamo preparati in questi giorni direttamente alla celebrazione del Natale. Ecco, in questi giorni, tra settimana, la Chiesa ci fa meditare ad esempio la genealogia di Gesù, perché dicevo appunto che dobbiamo riflettere anche sul fatto storico e poi lo vedremo per quale ragione, e ci fa meditare sulle diverse annunciazioni, l'annunciazione dell'angelo a Zaccaria nel Tempio che annuncia la nascita di Giovanni il Battista, poi l'annunciazione dell'angelo a Maria Vergine che annuncia la nascita del figlio di Dio. In questo modo, gli evangelisti vogliono sottolineare che in Gesù si realizzano tutte le promesse che Dio aveva fatto al popolo ebraico nell'Antico Testamento. Ecco, ma la domanda che nasce spontanea è per quale motivo vengono letti questi testi storici legati appunto alla nascita del figlio di Dio, per una ragione molto chiara ed importantissima per la nostra fede, perché è importante sottolineare la storicità dell'evento dell'incarnazione. Il cristianesimo non è una mitologia, il cristianesimo non è una morale, il cristianesimo non è neanche una filosofia, il cristianesimo è una persona, una persona che è venuta e che ha voluto incontrare l'uomo e che si è fatto incontrare dall'uomo, e questa persona appunto è il figlio di Dio che ha assunto la povertà della nostra condizione umana perché noi a causa del peccato eravamo separati da Dio, eravamo i nemici di Dio per riportarci alla nostra vera dignità che è la dignità dei figli di Dio, in sostanza per riportarci a quello che era il progetto di Dio all'origine della creazione prima che l'uomo commettesse il peccato. In questi giorni, ecco, si leggono e si cantano dei testi bellissimi che vengono definite le litanie, le antifone O, perché incominciano appunto con un O, che è un O di meraviglia, di stupore, e in questi testi Cristo viene definito con i nomi più belli che noi possiamo trovare nella Sacra Scrittura. Si parla di Cristo Sapienza, di Cristo Signore, di Virgulto di S, di Chiave di Davide, di Astro che sorgi, di Re delle Genti, di Emanuele, cioè di Dio con noi. E questi testi incominciano con un O di meraviglia e si concludono, dopo aver invocato il Signore a seconda di questi titoli, con una invocazione. L'invocazione suona in questo modo, vieni a salvarci, vieni a liberarci, vieni a insegnarci la via della vita, vieni e illumina. Quindi questi antifone che esaltano il mistero dell'incarnazione, esaltano l'opera della redenzione e l'opera di Cristo che continua nella storia. C'è un grandissimo studioso della liturgia della Chiesa, il padre Geranze, che è stato un monaco benedettino, che dice proprio che in questi testi noi troviamo il midollo di tutto l'Avvento. Cioè se volessimo capire che cos'è l'Avvento, cosa significa celebrare l'Avvento, potremmo prendere proprio questi testi. E poi, alla fine, ecco, di questi antifone, la Chiesa esprime tutto il suo stupore, tutta la sua meraviglia, tutta la sua gioia, tutta la sua gratitudine per il Signore che viene. Quindi la liturgia dell'Avvento è una liturgia che abitua l'uomo, se così posso dire, a una dimensione fondamentale della vita che purtroppo noi abbiamo perduto, che è quello della gratitudine, che è quello della riconoscenza, che è quello del ringraziamento. Oggi sembra che tutto ci sia dovuto e noi abbiamo perso questa dimensione importante della vita. Ecco, invece, la liturgia della Chiesa ci fa percepire che tutto quello che abbiamo in realtà lo abbiamo avuto in dono. Soprattutto il dono della salvezza, il dono di poterci chiamare e sentire di essere veramente figli di Dio. E quindi l'uomo che, nella sua infinita povertà, però, si apre alla gratitudine verso Dio per questo immeritato dono che gli è stato fatto. E questo è il frutto, appunto, del mistero dell'incarnazione. Grazie a Monsignor Francesco Cavina, Vescovo di Carpi, per le sue parole. Ringraziamo il pubblico che ci ha seguito e vi invitiamo a rimanere con noi anche domenica prossima per questo percorso, questo cammino di avvicinamento al Natale. Grazie a Monsignor Francesco Cavina,